nessuno e france ma il numero l'hai messo tu no no ma il numero ce lo danno loro ma quindi entriamo con qualsiasi numero bastare la macchina uguale giusto devo entrare prima io ah beh sì nel senso 41 gradi a pista la matonna che puttana le pressioni a 21 nel tema no no ma qua io sono solo il server di ok guarda un attimo che split siamo che cosa fa che split siamo 3 aspetta se è cambiato non lo so ma eravamo 3 possibile eravamo 4 fino a 5 minuti e la matonna le pressioni avviene a 21 nel tema no no ma qua io sono solo il server di ok io mi risento in ritardo da qualcuno no no avevo aperto youtube perciò adesso ok allora lo fiume lo sport vediamo che dice adesso la felita la mia televisione adesso no però prima quando ti ho detto che mi risentivo io forse la sire la televisione adesso non sento niente prima adesso la senti aspetta ma io adesso non in gioco non sento no io non sento niente prima io non sto giovando strano questa cosa qua funziona del cosa è rumore comunque non fa sentire i rumori intorno noi noise cancelation noise cancelation mica credo che vivi a londra porca troia e non riesco ancora non riesco ancora per qualche ragione a dire quel cazzo di break trailing tra i libri non sono sempre trailing o se break io quindi faccio sempre la casetta il breaking ok quindi 4 quindi 4 si ha scritto 4 314 alla madonna quindi fai guardi e primo stintero non è questo cosa ma siamo splitto 4 sicuro e fra qua questi medici scritto 4 non mi fai entrare a no sento di quelli in 45 minuti si immagino quanti cazzo di server si sono aperti sono meno 50 185 diviso 4 fa 4 4 per 4 16 quindi saremo 30 macchine al server beh non è male 30 35 perché ci do un'occhiata 60 riserva ma c'è troverso 180 spittu io ho trovato una sera trovato una delle prime no sta giù si chiama c'è guarda e il 66 37 no non mi chiedo tutti uguali niente quando si sono no ma che cazzo da giudicare guarda dove sta r tutti quanti c'è 45 quando comincia 180 lo trovi subito 80 fp questo 45 45 30 45 vai giù vai giù giù 180 fp io lo vedo l'ho messo tutto fai aggiorna e aspetta ti dico a livello di numero qual è da 2 4 6 7 7 8 9 10 11 12 13 l'ho messo nel mio primo pilota e il 22esimo il 23esimo c'è scritto fp 1 2 10 q 20 r 180 non è che stai guardando male no io pure vedo io non ne trovo uno non ne trovo uno fp 1 21 va aspetta che esco torno indietro lista serve sì vabbè sì vabbè ok 156 e ora sono pure diminuiti dovrebbe essere più facile 30 e appena cominciano 180 è il secondo ora non lo vedo sono fp 180 fp 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 ma scusate ma scusate hai messo tu prima il primo pilota hai detto no io vabbè ma non c'entra niente dovrei trovarlo comunque magari non mi fa entrare però io lo vedo subito che numero di da che serve di da come primo fra split 1 57 450 fp 2 q 6 15 r 45 giusto eccolo qua aspetta dai l'ho trovato ma la password non è sempre l'fm e dovrebbe essere sì l'ha trovato? sì ma mi dice che la password è erata cancellare l'escrivito la smile l'ho cancellato l'escrivito già tre volte eh l'ha una gran cambiata l'ha una vita l'ho trovato aspetta questo è split 2 però ahhh l'abbiamo fatta ci sei? sì sto entrando aspetta come l'ho giuparso io però Vabbè tu c'hai di tempo, io vediamo quanto c'ho di tempo ancora Ah, finora ancora, appena adesso le prove libera Ah, che culo E allora è a capace per quello che non ti stavo scendendo Che a volte c'è più tardi, dipende da dove stai No, non c'era messo accessibile, Vigo, ragazzi Praticamente quelli lucchitati non te li fa vedere Posso entrare? Sì, sì, sono dentro io LFM, no? È la password? Sì, sì, qui tu guardi Ok E ho fatto solo una modifica, Luca, ho abbassato di 20 il differenziale Sì, vabbè, faccine insieme Così scorre meglio l'ingresso Sì, sì Comunque quella benzina penso che ci vorranno 85 litri, no? 80-85 Eh, 48 minuti, sempre lo so Sì, 48 è lo stinto, sì, quindi Più o meno 80-85 litri Perché non mi fa fare guida? Perché ce lo l'ho io la macchina Sì, però se io... Ah, no, perché stiamo nel tempo attesa massimo, non so Che io devo fare guida e rientrare e trovare la macchina, capito, però non me lo fa fa' Ok Però sì, mi vedo Francesco Casello in guida M.R.T. connesso E ogni tanto la sento la televisione, no? Quando parla tipo il gioco e fa l'intervista, no? M.R. Perché il non se cancelle, cancelle, non toglie il rumore, però che la sento la voce, la amplifica, capito? Quindi si sento intanto parlare Sì, po' adesso lo sto sentendo, lo sto parlo vivo M.R. perché sono io muto S.R. Dopo quello, se vai ad Ambiente e togliere dai Master Ambiente, quelle voci le si tolgono Eh, vedete, queste impostazioni prima, c'era delle cuffie, mettevo il jack, boh, audio stereo e amen Tutte queste impostazioni, un po' 36 gradi, porca troia Eh, su NFM invece va direttamente nella macchina Strano Cosa abbassare i... Ah, io apro di più di uno di condotti, vaffa Vediamo che succede Per ora Insai Per ora Vai S.. Non ho visto S, S... S... Shere S... Pressione Stir it Vento a sesto è ammazzato un bel numero ho trovato rimedio a tutto durante l'ultima chicane si quella qua c'è da morire c'è vero in una barca sembra qui non sono io pensavo così di frenare tanto prima che sennò si impunta anche una cosa questa qua bisogna se freni dritto frena di più se non ci sta fare in frenata in frenata tutte in dritte frenata in frenata Sì, mi sono addormentato però alla fine Sì, mi sono addormentato Sì, mi sono addormentato E' un riuscire di Yon Come faccio a fare questa curva in sesta e faccio giù? E' in mezzo, così non ti tira fuori, che è una guinda limitatore e ti porta fuori Non riesco a farla di sesta, io ci ho provato, ho detto a Chico, prova a farla di sesta e ho provato fuori di vista Ma c'è il sound del motore sulle casse Perfetto Ciao Ah! ma c'è l'audio sulle casse io si uno dei due no e non ce l'ho le casse come manco io ok sento non rumore nient'altro mi sembra tipo quando la macchina prende i cordoli che non è ancora girando intorno al spa si sta facendo un altro endurance giusto lfm tre ore io a chico e chieco a consumarla sta visto ma cosa stai facendo? mclaren o comunque vi devo far vedere che cazzo ho combinato con l'acceleratore la p2000 si è spaccato l'oriente ma si è spaccato l'oriente in piena traiettoria oddio madonna questo cazzo varrà a aumentare va in cibo dico e checco va in cibo va in cibo come va in cibo come va in cibo e che cosa stai facendo? ma io sento non ti può parlare ma io sento non ti può parlare e anche io sento non ti può parlare e sarà sicuramente io ma non so per più ovviamente forse ci fa sentire quello che devo sentire il pufe ovviamente se stai facendo scorreggio lo sentiamo pure la notte buono hehehehehehehehe hehehehehehe Oh, 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 oh. Luca, se mi senti, ti attivi un'azione di gruppo, non se vuoi parlare, devo chiedere una cosa E mi? E Lu, ma tu per caso, siccome c'è una manifestazione con le portazioni, ma tu conosci qualcuno che c'è a che fare con la Sinagic, tipo, medaliere, P2.000, roba del genere? Conosci qualcuno che, non so, ne capisce, ne sa? E' l'unico, l'importatore è sempre quello che importa tutti gli altri, anche... Quello di Dareitrae Italia, no? Lui? Sì No, l'ho già chiesto, ma tra due queste non ha fatto bizzarro Ma perché? Niente, ragazzi, c'ho una pedaliera semi-idraulica della Sinagic L'acceleratore, ovviamente, è idraulico e c'aveva la molletta per aumentare e diminuire la durezza, esatto Solo che, durante quest'anno che ce l'ho notato che ogni tanto perdeva olio e non si capisce dove cazzo lo perdeva Fino a quasi a perderlo tutto, quindi c'ha un po' di pressione, però non tornava bene indietro E quindi, siccome l'ho comprata usata e non so il tipo che non l'ha venduta da dove cazzo l'ha comprata Ho provato a contattare l'assistenza italiana e mi hanno fancolizzato Quella inglese mi ha fancolizzato perché mi hanno detto che devi avere... Scusa Nel senso che mi hanno detto che, siccome non l'ho comprata da loro, non possono fare niente Non possono agire mandando... anche io ho detto, ma io pago, mica non devo pagare Mi sto rivolgendo all'assistenza Come fanno a non sapere che l'hai comprata da loro? Perché sicuramente sulla ricevuta da qualche parte c'è il marchio loro, capito? Perché siccome come hai detto tu sono cose che loro esportano Anche in Inghilterra, che in Inghilterra si chiama Bruzzi Quello che vende le cose della Steam Magic Quello che l'ho già contattato e siccome non... non tengo... non gli posso dare nessuna... nessuna... Certificazione che l'ho contattato da lui, ma dentro lo sfruttano E lì è un o-ring che non tiene eh, se non fa tenuta eh E nulla, la verità... Però... Cioè se è una pompa, è per forza... è per forza un o-ring che non fa più tenuta e... Ma c'è un o-ring E allora calcola che anche se quella roba lì è una roba fatta dalla Steam Magic Che al 99,99% usa un o-ring eh, tra virgolette, industriale, tradizionale di qualcos'altro Cioè nel senso... No, io... No, io perché sono già arrivato con... con Francesco De Lugo Il problema è perché tu l'avevo già smontato Io non lo so se si apre, nel senso... e se volo forza o se a spacca Cioè me lo prendo nel culo perché... non si rimonta più Quello è il problema perché dopo me è... fatto la cosa Tu magari adesso non ce l'avevo presente Però io non lo rendo presente perché ce l'ho tutto il cazzo, tutto il giorno Non sembra che è smontabile, lo vedo Quindi se vado a forzare dove esce il pistone, dove esce il ruolo e tutto quanto e così Ma era un secondo, ma ce l'avrai comunque una vite tipo di spurgo o qualcosa? Tipo quale di repente... No, allora, il freno ce l'ha perché il freno compra molto di traurido No, dai Luca, vi scusate un attimo tutto, per favore, perché non sento un cazzo No, la macchina non la sento Eh Luca, andiamo sull'ostro canale, Massimo Dai, vai un attimo, per favore, dai, che poi sistemo sta cosa No, non voglio farviare No, non voglio farviare Grazie a tutti. 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 28, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' pulita eh? Strana di solito. Comunque sul setup c'è un po' di sovraffersi. io dopo la prima mezz'ora non ci sentivo un po' la veda diventa delicata la staccata 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come al solito, qua sempre. Guarda questo, guarda questo, come è arrivato? Mamma mia, cosa hai detto prima? Molto corretta la cosa. Sì, scusa, volevo parlare un po' preso. Bravo, cosa c'è che vi darmi? A me ieri così mi è successo che con la fine la macchina non esiste, era un lago. Ma lì proprio perché si fermano praticamente all'ingresso della... Appena avuto accanto di non ci potete trovare. Alla... Vi è andata a la... Che si piace? Ok, ieri abbiamo un calido. Non lo vedi. 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 Grita l', non lo vedi. Sì, che cosa vuol dire? Ah, proprio. Vuol dire che avrò che vuole. Sì era quello che ho toccato, ma cos'è? Ha perso tanto no? Quello McLaren di prima, l'altro giro? Sì, quello lì ho toccato all'ultimo Shigami. Sì. Si ha perso tanto no? Androcioli. Ho perso tipo... Sì, 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 in posizione. Però ce l'avevi, diciamo, un progetto. Sì, è successo perché quello davanti a lui ha frenato, lui ha frenato e tu... Fu ha frenato però... Fu a pescente. No, adesso stiamo scendendo il... ...motor accelerato. Sì, vabbè. Ma fuori un gioco dall'assessorato di questa girata. Però non penso che tu mi abbia fatto molto da. Eh, no, l'ho un po' una sorta pizzicato sull'angolino. No. 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 Mish. Ma! Tì, no. Ha, la ve構a. Ma hai, hand! Vabbè quattro posizioni di dietro non è vero Ah si no ma infatti non gli hai fatto né danno per soltanto Se vuole fare lo sa Ti è un'altra di Portnalli perchè alla polva dopo ti sono giro due davanti a te e quindi ti hai preso due posizioni Si si è arrivato quel mercato che si provi su all'ultimo Esatto Sì E' un'altra di Parche È un'altra di Parche Ed finale Está che a pelle l'Auto di Starmark Ti piacce Vabbè vai per Piorci Sera Bosh No, no, vado a capire, è andrenato come frenare, perché va troppo per il cielo, non si ferma mai. Vedete un sacco l'ABS, sicuro non lo sa via. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi. Ok, hai visto, ho visto, ho visto. Ho visto, ho visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no comunque bravo, ti sentivo meglio quello di ieri, hanno fatto luce, vero? si sente come sia, non lo so quell'altro non erano wireless, erano col cavo non lo so, non lo so, non lo so ogni tanto quando dici una parola così ogni tanto, ti spiegherai capire che cazzo stai dicendo cosa stai stamattina? sono pure io che parlo a basso e basso a volte adesso non so, magari senti le stesse voce come me io ti sento benissimo ti sento metallica no io senti ti sento le voci poco metalliche che saltano metalliche nella posizione di collezione no perchè io ho le tre cubie quindi no io ti sento felice a te ti sento meglio a te ti sento meglio si non lo attengo più questa macchina di gomma di brutto si ma quando arriva l'ultimi dopo mezz'ora non mi sono stati in pista non mi sono stati in pista veramente chicco la faceva andare non mi sono stati in pista magari voglio qualcosa non lo ha frenato bu non so adesso non so non so non so ma e Alright No, è proprio in difficoltà infrenato, ma d'accordo Ma proprio la PS3 fa, avevo visto che c'erano le due Eh, si vengono ancora di bene la PS3 C'erano troppo dietro la frenata No, 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 no Era un flyer, exact Proprio la 51 o due, va? No, 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 no No, no, no C'erano, chi però non prendere la dire. C'erano di far ferre nascere la scuola a tutti Eccoli lì, li vedo in fondo al rettilineo, andiamoli a prendere E qui non è ancora ormai, anche se gli giardi dovette e così ammora Sì, c'è, 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 c'è il gioco, c'è il gioco Ma che cazzo fatti? Il pizzo è staccato la mano dal volante qua dentro! Che è successo ora? Ogni volta lì in bagno? No! E vedi le mani sul volante qua? Ah! Non lo so, ho staccato la mano dal volante! Ah, addirittura! Non vedevo più! Un po' rinchi in metro! Un po' rinchi in metro! Cagni un buco Cagni un buco Cagni un buco E' la borsa piena, ma è capace di punta l'entrapezzarsi. Oica, ma è capace di viva. E' un po' l'acqua. E' un po' l'acqua. P4. Grande. Splita 1. Grande. Pensa quanto stai consumando quelli di me. Bene. Dai dietro, va. Aspetta. Quattro a destra? Aspetta. Quattro a destra. Quattro a destra. Quattro a destra. Quattro a destra. E' un po' di vita. Oh, c'è un cadavere qua. E' un po' di vita. Dove vai? Adesso la sinistra. Comunque, bravo. E' un po' di vita. E' un po' di vita. E' un po' di vita. Mettimene 80 totali. Quando... 80 totali? Si. Un po' di vita. 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 E ora fai 85 a voi, quando vuoi, totale. Si, a totale, dappi già un'impostata 85 a voi. Sì, ha 85 a voi. Quanto in giro c'hai ancora? Ah, ah. Un'impostata. Ragazzi, giri, non riesco a leggerlo, 7 mi prenderò. Ragazzi, giri, non riesco a leggerlo, 7 mi prenderò. Ragazzi, giri, non riesco a leggerlo, 7 mi prenderò. Ragazzi, giri, non riesco a leggerlo, 8 mi prenderò. Ragazzi, giri, non riesco a leggerlo, 8 mi prenderò. Ragazzi, giri, non riesco a leggerlo, 8 mi prenderò. Ragazzi, giri, non riesco a leggerlo, 8 mi prenderò. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti